Sentiamo spesso parlare di infiammazione da cibo, ma sapete tutti di cosa stiamo parlando? Forse è bene chiarirlo in questo breve video, perché l'infiammazione da cibo è una realtà sempre più in crescita. A me non piace tanto parlare di intolleranze, eccetera, eccetera, ma piace parlare proprio di questo, così, quando parliamo di una categoria di cibo che va a creare dei problemi nel nostro organismo, perché quello che noi facciamo oggi, visto il nostro stile di vita occidentale, ma visto il nostro stile di vita in generale, che ci porta spesso, questo stile di vita, alla monotonia nutrizionale, cioè al fatto di ripetere spesso lo stesso cibo nel tempo. Io parlo più che altro di categorie di cibo, parlo della categoria del glutine, parlo di latticini, ma specialmente delle caseine, parlo della categoria del nickel, parlo della categoria dei salicilati, parlo di una categoria, non di un singolo alimento, perché noi quando siamo bravissimi a ripetere sempre lo stesso alimento nel tempo, facciamo un esempio pratico, un esempio, quando mangiamo spesso, tutti i giorni il glutine, mangiamo sotto varie forme, dalle fette biscottate, al pane, alla pasta, ma non è il pane, la pasta che danno il problema, il fatto che questi contengono glutine, questo viene continuamente mangiato nella giornata, ma nella settimana, nel mese, fino a che poi il corpo arriviamo ad una soglia infiammatoria molto alta e quindi ovviamente ti darà un sintomo, quindi che potrà essere un sintomo gastrointestinale, potrà essere un mal di testa, potrà essere un problema sulla pelle, ci potranno essere tanti sintomi che sono dovuti al fatto che è cresciuta questa infiammazione che è legata a questa monotonina, quindi il consiglio che vi do è cercare di variare il più possibile la nostra alimentazione, non prendete sempre le stesse cose, ma cercate di variare, perché poi nel momento in cui si è instaurata un'infiammazione da cibo, bisogna poi fare delle rotazioni, degli alimenti e ovviamente essere guidati poi dal professionista per cercare di abbassare questo grado infiammatorio per eliminare quella che poi è il sintomo finale, che è comparso, quindi poi bisogna fare tutto un lavoro a monte per cercare di migliorare il vostro stato di salute. Spero che ho chiarito bene questo discorso, se ti è piaciuto questo video metti un bel mi piace, seguimi sui vari social, facebook, instagram, youtube. Ciao! Ciao!